Musica Buonasera a tutti, siamo qui alla 41esima edizione del Valdarno Cinema Film Festival in compagnia del regista del film L'invenzione della neve, Vittorio Moroni, buonasera la prima domanda che vorrei porgerle è se c'è stato un trascorso proprio in termini di vissuto nella scrittura della trama di questo film, dato che comunque si tratta di una tematica delicata e in un certo senso anche un po' sofferente Sì, c'è stato io sono stato invaso nella mia vita privata da un personaggio molto simile a quello che racconto in questo film da una Carmen reale e ho cercato in ogni modo di raccontare questa storia per istinto io tendo sempre a cercare di raccontare inizialmente le storie attraverso dei documentari non è stato possibile in quel caso per una serie di ragioni legate al fatto che era difficilissimo accedere al suo mondo era anche illegale in certi casi farlo e quindi a un certo punto è stato indispensabile per raccontare questa storia trasporla all'interno di quella che normalmente si chiama finzione ho però cercato di realizzare questo film nel modo meno finto possibile quindi provando a creare delle condizioni che fossero le più vere possibili e la prima condizione è stata trovare degli interpreti prima fra tutte Elena Gigliotti che fosse in grado di assumere su di sé questo personaggio di mescolare il suo DNA con quello del personaggio e di creare delle condizioni sul set per cui in qualche modo noi ci trovassimo quasi a raccontare in modo documentaristico quello che lei stava facendo accadere in quel momento take dopo take quindi abbiamo creato un dispositivo che fosse in grado di restituire sia pure dentro a un progetto scritto qualcosa che si rinnovava continuamente e che fosse imprevedibile per noi che lo giravamo allora la favola d'amore a cui si aggrappa Carmen come personaggio diciamo la favola di quella che è anche la salvezza e la riconciliazione rappresenta l'amore materno oppure l'amore passionale dell'uomo? allora io penso che Carmen in qualche modo abbia un disperato bisogno di frequentare sua figlia una figlia che le viene sottratta o almeno parzialmente sottratta perché il mondo ritiene che l'amore di Carmen sia un amore pericoloso e quindi protegge in qualche modo la bambina e protegge anche altre persone da Carmen quindi c'è in lei il bisogno di affermare il fatto di poter essere una brava madre ma io penso che la bambina di Carmen e quindi questo suo desiderio di poter stare con sua figlia di poter non essere separata da sua figlia sia anche un bisogno più profondo ancora Carmen è stata a sua volta una figlia che è stata separata dalla madre e quindi ha bisogno di attraverso questa figlia di poter trovare il diritto di stare in questo mondo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti